L'Italia del volley femminile sta dando grandi risultati, ci sta dando grandissime soddisfazioni, un atto 3-0 contro la Francia che veramente si classifica molto bene dal punto di vista di gioco. L'Italia sta andando molto bene, le parlavoliste italiane si possono ritenere più che soddisfatte per quello che effettivamente parlando stanno facendo, stanno compiando. L'Italia ruba il compressore, vero e proprio, di un volley che lascia veramente emozioni complete, totali e forti in chi lo va a guardare. 3-0 e questo è il risultato conclusivo che l'Italia compie nei confronti i barani guardi della Francia e vola letteralmente in semifinare. La prossima sfida ci sarà infatti in Belgio, a Bruxelles, contro una vincente del quarto tra la Turchia e la Polonia. Quindi la prossima partita di volley di pallavolo femminile sarà o Italia-Turchia o Italia-Polonia. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, dunque un 3-0 che sa di essere bello, di piacere, di essere straordinario e soprattutto che si pone in un livello angelico e angelicato più elevato rispetto ad altre situazioni, ad altre realtà. Va bene? Voglio fare i complimenti, dunque, all'Italia del volley che grazie a essa sta dando degli eccellenti e nonché straordinari risultati, risultati vincenti che pongono l'Italia ad un livello più alto, più elevato. Iscrivetevi, commentate, ciao dal vostro Leandro, narrato italiano, complimenti all'Italia del volley.